Che un atleta, un campione, sette giorni su sette tutte le mattine ha voglia di alzarsi e andarsi ad allenare otto ore al giorno? No. Non è motivazione, non è la motivazione che ti spinge ad andare avanti. Cosa pensi? Che tutte le mattine mi sveglio e ho voglia di lavorare, fare, spaccare? Eh, due, tre volte a settimana magari mi sveglio che ho voglia di fare. Gli altri giorni mi sveglio e non ho voglia. Quindi non è un quanto sei motivato. Quanto sei disciplinato. Tutte quelle volte che ti svegli presto, lavori, lavori su te stesso, fai quello che devi fare. Tutte quelle volte che fai, lavori duramente, vai a dormire tardi. Tutte quelle volte che ti sacrifichi. Quello è il percorso che ti porta al sol. Parliamo di disciplina. Pensiamo a un atleta, pensiamo a un campione. Che pensi? Che un atleta, un campione, sette giorni su sette e tutte le mattine ha voglia di alzarsi e andarsi ad allenare otto ore al giorno? No. Non è motivazione, non è la motivazione che ti spinge ad andare avanti. Cosa pensi? Che tutte le mattine mi sveglio e ho voglia di lavorare, fare, spaccare? E due, tre volte a settimana magari mi sveglio che ho voglia di fare. Gli altri giorni mi sveglio e non ho voglia. Quindi non è un quanto sei motivato. Un quanto sei disciplinato. Tutte quelle volte che ti svegli presto, lavori, lavori su te stesso, fai quello che devi fare. Tutte quelle volte che fai, lavori duramente, vai a dormire tardi. Tutte quelle volte che ti sacrifichi. Tutte quelle volte che ti spinge ad andare avanti.